Siamo con Giovanni Caccavelli, il presidente della Matese Mountain Bike, sulla scia del grande successo dell'anno passato. Quest'anno torna, in una data un po' anticipata, il secondo trofeo di spinete della Matese Mountain Bike. Insomma, un avvenimento sportivo molto molto importante che ha avuto anche un grande successo. Sì, un grande successo lo scorso anno. Abbiamo replicato con grandissimo entusiasmo. Quest'anno è veramente una cosa molto molto bella. Abbiamo lavorato duro per 15 giorni, il tempo ci ha consentito di mettere a punto tutto. Grosso successo, seconda edizione, grande numero di iscritti. Proprio adesso mi dicevano che su 123 pre-iscritti abbiamo superato i 103-104 confermati. Quindi, oltre ogni rosa e aspettativa, veramente la cosa ci onora. Ecco, abbiamo detto anche, oltre al grande successo sportivo che avete avuto l'anno scorso e anche quest'anno, la conferma. Insomma, prima parlavamo anche col sindaco di un grande successo anche a livello di turismo che può avere questo sport che richiamasse appunto anche molti curiosi che magari sono anche alle prime armi con la bicicletta. Quindi è anche un motivo per incrementare il turismo. Sì, ne parlavamo in settimana col sindaco. Secondo l'idea della Matese Mountain Bike è un modo per fare sport, è un modo per fare agonismo, è un modo per fare aggregazione, è un modo per fare, io lo chiamo, microturismo. Spirete è un paesino nella vallata del Matese di 1.500 più o meno abitanti, probabilmente conosciuto anche all'interno del Molise poco. Quindi abbiamo atleti che vengono da Termoli, che vengono da tutte le parti del Molise e abbiamo un bel numero di iscritti da fuori regione. Quindi in qualche modo abbiamo portato il nostro piccolo paesino a conoscenza di altri territori e altre persone. C'è poco che è passato.